Buongiorno e ben trovati con la rassegna stampa di Molise TV, oggi è sabato 8 febbraio e vediamo come titolano i principali quotidiani locali e nazionali. Iniziamo dal quotidiano del Molise che titola con Biocom Frattura pronto a chiarire, fuga di notizie sul caso che investe il Presidente, scritto nel registro degli indagati, le accuse, malversazione, appropriazione indebita, sono sereno e ho fiducia nell'operato della magistratura. Sono convinto che sarà la giustizia a fare chiarezza, mi auguro che possa essere subito ascoltato per chiarire la vicenda in tutti i suoi dettagli. La mia fiducia nella magistratura è radicata e totale, così il Presidente della Regione Paolo Frattura che ieri ha convocato la conferenza stampa per chiarire la sua posizione sull'inchiesta Biocom. E poi ancora politica, duello tra onorevoli, Patriciello Amuso Duro, la Venitelli pensasse alle cose serie, l'eurodeputato contro la candidata alle primarie del PD. Area di crisi per il Molise, importante apertura dal Governo e il Ministero, ci sono i presupposti, lo rende noto l'assessore Petraroia. L'Agenzia di protezione civile è intesa sulla proposta ruta per salvare i precari. E poi da Isernia, delegazione della IKF, è in visita all'ITR e l'azienda che ha manifestato interesse per il rilevamento. E ancora a Campobasso, affitti e bollette, un salasso in famiglia, impietosa l'indagine che ha condotto l'ADOC. Ancora a Campobasso, l'inchiesta all'ottizzazione Parco dei Pini, no alla Maxi Variante. Questa amministrazione ha messo in ginocchio la città, lasciandola in una situazione emergenziale. Stavolta l'intervento è della consigliera Itzi. E poi Isernia, in provincia, riduzione indennità, mezza giunta rinuncia e le incassa per intero. Il presidente Mazzuto e altri quattro membri della giunta provinciale se le sono ridotte, mentre gli altri colleghi rimanenti hanno preferito continuare a percepire le somme per intero. E poi lo Sport Serie D, Boiano di scena a Trivento, arriva alla Miternina. Lupi oggi contro il Montaquila nel mirino della trentesima vittoria. Eccellenza il Venafro ospita la Lifero, Caravindola impegnata in trasferta. Promozione le Acli, attendono il vinchiaturo Ermes Toro per il riscatto. E per il quotidiano del Molise controlliamo le pagine interne. Area di crisi in Molise, il governo apre. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha riconosciuto l'esistenza dei presupposti per avviare le procedure. Petraroia, attenzione ai lavoratori del tessile, dell'alimentare e del metalmeccanico. E su Iorio si risponde da solo, patriciello contro la Venitelli, le consiglio di occuparsi di cose serie. Protezione civile, c'è l'accordo. La proposta di Ruta convince i sindacati e i precari dell'agenzia, il senatore del PD. Così garantiamo due anni di reddito a tutti, nessuno escluso. Piccole e medie imprese, rilancio possibile con il Cosme, il programma dell'Unione Europea. Esattorie, cavaliere, incalza, frattura, tutelare, anche i dipendenti di Pianeta Service. E poi il caso Biocom, frattura sotto tiro. Sono pronto a chiarire, il governatore apprende da un giornale di essere indagato e convoca d'urgenza una conferenza stampa. A breve potremo avere risposte chiarificatrici. La mia fiducia nell'operato della magistratura è totale. Stipendi d'oro, polemiche nel PD. Michele Di Giglio, alleato della Fanelli, incalza Laura Venitelli. Cos'hanno fatto i parlamentari per la riduzione dei privilegi? Intanto Emolisi arriva a Pittella per sostenere la sindacessa. Costi della politica, la conferenza dei presidenti va avanti. Ha attivato un gruppo di lavoro per verificare la possibilità di nuovi interventi. Ex LSU si cercano soluzioni lunedì tavolo tecnico in assessorato. E adesso leggiamo insieme Primo Piano Molise che titola con fondi alla Biocom indagato frattura. Il PM e Papa ipotizza i reati di malversazione e appropriazione indebita per il finanziamento ottenuto con l'articolo 15. Il presidente si dice sereno, fiducia negli inquirenti, non come Iorio che ha gettato fango su mia sorella. Il governatore del Molise è indagato per malversazione e appropriazione indebita. Sono questi i reati ipotizzati nei confronti suoi e del liquidatore della Biocom Vittorio del Cioppo dal sostituto procuratore Fabio Papa. La vicenda riguarda il contributo ricevuto dalla società di cui Paolo Frattura era amministratore per la costruzione di un impianto di biodiesel mai realizzato. Il presidente ha convocato la stampa e si è detto sereno, chiederò di essere immediatamente ascoltato, ho fiducia negli inquirenti, non come Michele Iorio che ha gettato fango su mia sorella, facendo passare in secondo piano l'inchiesta che lo riguarda. E poi vertenza del tessile, cambia il giudice, si allungano i tempi per il concordato, resta sospeso il futuro dell'ITR. Intanto se ne va l'ultima licenza rimasta a Pettoranello, gli arabi comprano ferree ma poi chiudono i battenti. Due brutte notizie per l'ITR, cambia il giudice che si stava occupando del concordato e di conseguenza si allungano i tempi per sapere quale sarà il futuro dell'azienda. Intanto gli arabi comprano l'ultimo marchio e subito dopo chiudono i battenti. È area di crisi in alcune zone del Molise, il governo Letta dà il via libera alle procedure, Petraroi ha due le opzioni su cui avviare il confronto con le parti sociali. Politica, primarie e veleni, patriciello a gambatesa, venite all'ichì, l'eurodeputato non cade nella provocazione. Tirato per la giacchetta nella guerra delle primarie del PD, l'eurodeputato non risponde alla provocazione. Ricostruzione, precari del sisma, c'è un'intesa di massima, il senatore Ruta abbiamo convinto tutti. Campobasso, caos, tares, l'assessore Toma tra quattro giorni ha risolto il problema. E poi termoli, zuccherificio, biticoltori ancora senza conto. Una notizia dall'Abruzzo, precisamente da vasto, adriatico, patto coi rom del posto per il controllo del territorio. E poi lo sport a serie D, il Boiano anticipa Trivento per il bianco rossice la Miternina. Eccellenza Lupi trasferta con il Montacoli al Venafro, ospita la Life al Delprete. Abruzzo, BCC sfida da urlo contro il Latina, i vastesi possono accorciare a meno due. E anche per primo piano Molise controlliamo le pagine interne. Primari e PD. Patriciello Dribla, Venitelli Chi, l'eurodeputato aggira la polemica innescata dalle dichiarazioni della candidata e dal convegno dell'API a Iorio. Domanda a dire, ho sempre lavorato nel mio partito per questa terra e continuerò a farlo. Carriero a Mendola e Caravatta, prima indiscrezioni sulle liste del Signore. E poi area di crisi, due le opzioni in campo. Petraroia ora confronto con i sindacati. Intesa sui precari dell'Agenzia regionale di protezione civile, lunedì, vertice decisivo, ruta soddisfatto disoccupazione e contratti a progetto. Biocom, frattura indagato per malversazione, il PM Papa ipotizza anche l'appropriazione indebita ai fatti relativi alla società di cui era amministratore. Lui incontra la stampa e si difende. Sono tranquillo e chiederò di essere ascoltato meglio gli esposti dell'agonia mediatica. Il governatore soldi all'azienda per un impianto biodiesel, nessun imbarazzo se il contributo dovrà essere restituito, sarò rigorosissimo. Cumulo dei vitalizi, deadline più vicina, presto la proposta dei Presidenti dei Consigli. Alla conferenza Niro polemizza ad ambienti di maggioranza luce negativa sui nostri enti. Evento clou, il sondaggio Planet Call, i voti dei molisani alla sanità pubblica e privata al convegno dell'ordine dei medici. E poi esattorie SPA, cavaliere in calza, risposte anche ai dipendenti di Pianeta Service, lunedì, il vertice in giunta. Adesso leggiamo insieme il quotidiano Il Tempo. Campobasso, soldi alla biocom frattura indagato per malversazione. Il governatore si dice sereno, sempre agito correttamente. L'indagine riguarda un contributo di 265 mila euro. E poi da Campobasso troppe tasse schiacciano imprese e famiglie a Roma per protesta con Confcommercio. Isernia, una scuola prefabbricata per i bimbi della San Giovanni. Il vecchio edificio era stato chiuso dopo il terremoto d'Abruzzo e nella nuova sede era stata rilevata la presenza di Gas Radon. Adesso leggiamo la Gazzetta del Molise. Frattura, indagato tutta colpa della Gazzetta. In caso di notifica farò degli atti, farò il dovuto. E poi l'Oscar del giorno affidato a Laura Venitelli, mentre il tapiro a Micaela Fanelli. Notizie da Campobasso, Savoia, firmata la convenzione Salva Teatro Economia all'Union Camera e passa da Campobasso a Isernia. Urbanistica dal Masterplan spunta lo svincolo per le torri. Ultimatum alla stampa, volete i soldi state zitti, di Giovanna Ruggero. E controlliamo anche per la Gazzetta le pagine interne. Altro colpo messo a segno da frattura contro il capoluogo regionale, la presidenza dell'Union Camera e Molise. Passerà a Isernia, Modio De Angelis, presidente della Camera di Commercio di Campobasso, costretto ad ammainare bandiera per non ostacolare il disegno egemonico del presidente della giunta regionale. Fanelli, dichiarazioni surreali. Dura la stregliata di Massimo Romano su quanto detto dal sindaco in merito alla sanità. E poi frattura, io indagato per colpa della stampa nemica. La società del presidente prende 265 mila euro di fondi pubblici e non li restituisce, il governatore accusa chi divulga la notizia. Adesso leggiamo insieme l'home page del quotidiano online Informa Molise. In primo piano vediamo, stiamo al cabaret di Brino Replica, la minoranza sulla diffida in merito alle interrogazioni. E ancora le misure per rilanciare l'economia, come e dove intervenire per superare la crisi economica. Il corso per agenti di commercio, terminus, formazione e apre le iscrizioni. E' ancora presentato il programma Cosme, finanziamenti per le piccole e medie imprese. In ultimo frattura, bio come gli scoop in Molise sono a pannaggio solo di certa stampa. Adesso passiamo all'informazione nazionale, leggiamo la stampa. Giochi Putin passa l'esame tedeschi in divisa arcobaleno, ma niente proteste sui diritti civili. E poi voto dannoso, Renzi rilancia l'ipotesi staffetta e il leader PD esclude larghe intese, ma è al governo con Berlusconi. 5 Stelle, Grillo, IPM chiedono 9 mesi. E poi Electrolux dietro fronte, la fabbrica non chiude. Passiamo adesso alla Repubblica, Renzi, mai premier con Berlusconi. All'Italia non servono le elezioni, letta subito rimpasto e programma. Al Fano, noi stiamo con Enrico, ma è il PD che deve decidere. Intervista alla Camusso, governo paralizzato, bisogna cambiare. Berlino alla BCE, basta con gli aiuti ai paesi, in crisi. E poi ancora la battaglia di Draghi per lo scudo salva euro. Il documento, ecco il piano per fermare il poltronificio pubblico. E ancora il racconto, il quinto cerchio non si illuminò. Polemiche, sfarzo e paura al via i giochi di Putin. Passiamo al quotidiano il tempo, inchieste ad alta velocità contro Grillo. Tave non solo, chiesti 9 mesi di carcere per il comico dopo le proteste in Val di Susa. Il leader 5 Stelle ha numerosi altri procedimenti penali, dal vilipendio alla diffamazione. Caccia al killer romano che spara in faccia. Dall'inizio dell'anno nella capitale, 4 omicidi, 3 ammazzati a colpi di pistola. Botta in risposta a Caselli, che spot altro che i clan. E ancora, rivolta in forza italiana al governo Correnzi dopo le aperture del Cavaliere. Melilli il democratico con due stipendi statali verso le primarie del Lazio. E poi i paperoni pentiti, rinuncia a 400 mila euro, il bel gesto della Ditelecom. E ancora niente pena di morte, l'India si arrende e anche Marino incalzato dal tempo, il sindaco firma l'appello. Leggiamo il messaggero di Roma, il Quirinale, avanti con Letta. La trincea del Colle, niente crisi al buio, il premier pronto al rimpasto a fine mese. Renzi boccia, elezioni e staffetta non servono mai al governo con Berlusconi. E poi Equitalia salta il blocco a cartelle per chi ha crediti con lo Stato. Bagarra la Camera, in alto male il decreto destinazione Italia. Gli acquisti dei bond, l'alta corte tedesca non boccia la BCE. E scendono lo spread e i rendimenti BTP. E ancora i giochi sfida Putin sui gay, Germania in divisa arcobaleno. Passiamo adesso all'informazione sportiva e leggiamo il Corriere dello Sport. Vi dice Inter via libera, il serbo annuncia lascio lo United to hear all'accordo imminente la firma. E ufficiale Diamanti va in Cina. E poi ancora giochi che iniziano subito gli azzurri. Zweigler nello slittino e Lacoste nel pattinaggio a squadre. Cerimonia di apertura a soci tra errori e proteste. I tedeschi sfilano davanti a Putin con una divisa arcobaleno. Benitez-Sidorf riparte la sfida. Si erano già scontrati in Europa, un titolo a testa fiorentina. C'è l'Atalanta. E poi ancora il Cagliari è sempre più americano. Una trattativa misteriosa. E ancora il Palermo prova a scappare. B e l'Empoli rischia a Trapani. Lanciano 1-1 nell'anticipo. E questo era il nostro ultimo quotidiano sportivo. Io vi lascio alle previsioni del tempo. Il meteo è offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per sabato 8 febbraio. Sul Molise la perturbazione giunta ieri si allontana. Situazione che migliora ulteriormente nel pomeriggio ma dalla serata è atteso un nuovo aumento dell'instabilità sui rilievi. Ventilazione moderata dai quadranti meridionali mare generalmente mosso. Temperature in aumento nei valori minimi stazionarie o in ulteriore lieve rialzo nei massimi. Andiamole a vedere nel dettaglio. Campobasso minima 5, massima 11 gradi. Isernia minima 7, massima 14 gradi. Termoli minima 12, massima 14 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità, 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 affidabilità e affidabilità. Grazie a tutti.